Cresce l'attesa per i prossimi appuntamenti che debutteranno al Teatro della Fortuna. Il 12 e il 14 marzo andrà in scena l'Elisir d'Amore, un'opera lirica di Gaetano Donizetti eseguita per la prima volta a Milano nel 1832 e primo titolo della rete lirica regionale dal quale partirà per le successive di immediate recite di Ascoli e Fermo, co-produttori con fano del progetto. L'Elisir, definita un melodramma giocoso, è sicuramente una delle opere donizettiane più rappresentate e amate, un'opera buffa italiana nella quale la musica più sublime e leggera si alterna a brillanti melodie. Inoltre, come dichiarato dal presidente della Fondazione Cati Amati, per riuscire a coinvolgere anche i giovani in queste rappresentazioni è importante l'educazione nelle scuole, raccontando e spiegando il perché ancora oggi si eseguono opere così importanti, ma in particolare si devono coniugare la memoria, la storia e la passione. Io credo che nella vita tutte le cose che facciamo, in tutti i campi, abbiano veramente l'elemento fondamentale, la passione. Con la passione uno supera i problemi, con la passione uno conosce, perché con la passione vai a leggere libri, con la passione ascolti la musica, nel tuo lavoro, se ci metti passione, come credo sia per voi, il lavoro viene meglio, insomma, e ci sono soddisfazioni. E la passione è quello che io vorrei fosse il comune denominatore del lavoro di questa Fondazione Teatro. La regia è affidata a Saverio Marconi e il ruolo di Nemorino ad Antonio Poli, giovane talento già conosciuto e apprezzato nei più importanti teatri del mondo. Qual è il modo migliore, secondo lei, per poter raccontare questa opera? Io credo che sia quello di far capire di cosa si tratta, di presentare i personaggi, di far capire qual è l'intreccio, il rapporto tra i personaggi. Praticamente è di coinvolgere anche il pubblico nel raccontare la storia. Io devo pensare che nel pubblico c'è qualcuno che non conosce la storia, che viene a teatro per divertirsi e io ho il compito e il dovere di raccontargli la storia e farlo divertire. Con poche parole, come definirebbe quest'opera? Beh, come la definirebbe un'opera buffa? Cioè, nel senso, un'opera divertente, giocosa, piena di musica bellissima, quindi credo che può essere l'opera che coinvolge il pubblico. La bacchetta, invece, è nelle mani di Francesco Lanzillotta, un altro giovane di grandissimo talento che dirigerà la Form, orchestra filarmonica regionale e il coro del Teatro della Fortuna, Agostini. Come dire, deve fondare le proprie basi su un ritmo che in qualche modo coinvolga il pubblico, una leggerezza che non sia però superficialità, che abbia un aspetto patetico, che è quello che poi fa la differenza, fra un dramma giocoso e un'opera prettamente comica. Se avessimo anche la possibilità di far capire a chi verrà a vederci, soprattutto alle nuove generazioni, che cosa stanno ascoltando, perché lo stanno ascoltando, che posizione occupa l'Elisir nella storia dell'opera italiana, sarebbe un bel passo in avanti. Ci può dare anche qualche anticipazione sul cast? Abbiamo Adina, Marco, uno splendido soprano, il tenore Antonio Poli, un ragazzo che sta facendo molto bene, e Andrea Concetti, lo conoscete tutti. Il resto lo stiamo decidendo. Madame Butterfly, l'altro titolo già annunciato della stagione 2015, della rete lirica regionale, inizialmente in programma alla fine di gennaio, andrà invece in scena il 26 e il 28 novembre prossimo, ma per tutte le informazioni è possibile visitare il sito teatrodelafortuna.it o contattare il botteghino al numero 0721 800 750